Ancora un decesso per covid in Molise al Cardarelli si è spenta una 93enne di Boiano, i positivi sono ora più di 8000 in virtù dei 414 nuovi casi. In ospedale ancora un nuovo ricovero per il secondo giorno la terapia intensiva è covid free. Gigafactory a Termoli, il CEO di Stellantis Tavares si rivolge alla popolazione molisana. La città adriatica ha il futuro assicurato, firmato l'accordo col Ministero dello Sviluppo, con la Regione e con Invitalia nella partita anche Mercedes-Benz, sindacati soddisfatti. Nonostante la diminuzione del prezzo del carburante non diminuisce la rabbia dei cittadini. Il costo della vita ha infatti raggiunto livelli giudicati inaccettabili. Nostra inchiesta tra la gente. Sanità e infermieri all'attacco. In dieci anni dicono perso il 26% del personale sanitario. Il Molise insieme alla Calabria è l'unica Regione a non aver rispettato i livelli essenziali di assistenza. Superbonus 110% venerdì. Il Movimento 5 Stelle incontrerà i cittadini, i tecnici e gli amministratori locali. Ospite d'eccezione l'ideatore del provvedimento, l'ex ministro e l'ex sottosegretario Riccardo Fraccaro. Infine lo sport, il calcio di Lega Pro e i tifosi del Campobasso sono pronti a invadere Foggia. Mister Cudini affronterà il maestro Zeman. Buonasera, ben trovati. Nuova edizione del Tg di Teleregione. In apertura all'emergenza coronavirus con i dati del bollettino che ha diramato l'azienda sanitaria in serata. Purtroppo si registra un altro decesso per covid. Non ce l'ha fatta al Cardarelli un'anziana 93 anni di Boiano e un paziente di Guardia Alfiera invece è stato ricoverato poiché non ci sono stati dimessi. I degenti totali sono sempre 28. 14 malattie infettive, 14 nel reparto anziano fragile. Per il secondo giorno consecutivo la terapia intensiva invece risulta covid free. I nuovi casi sono 414 rispetto ai 2016 tamponi tra molecolari e antigenici processati in queste ore. 58 i positivi emersi dai molecolari, 356 i casi invece registrati dai test rapidi. l'indice di positività è al 20,5%. Sono guarite nelle scorse ore 263 persone mentre gli attualmente positivi al covid in Molise sono più di 8 mila nello specifico, nel dettaglio 8 mila 24. Parliamo ora della morte di padre Luigi Russo, il sacerdote che era a distanza a Termoli che è scomparso improvvisamente dopo una caduta in chiesa. Ebbene al termine degli accertamenti eseguiti dall'autorità giudiziaria la salma di padre Luigi Russo è stata messa a disposizione della famiglia. Una santa messa in suffragio si terrà domani alle ore 10 nella parrocchia di Santo Nofrio a Nacoreta, San Giovanni Rotondo che è il comune di origine del sacerdote mentre poi la salma verrà traslata a Termoli al santuario della Madonna della Vittoria dove arriverà intorno alle 14 e i funerali di padre Luigi con la santa messa che sarà celebrata dal vescovo di Termoli Larino Monsignor Gianfranco De Luca con tutto il presbiterio si terranno venerdì 25 alle ore 10 e 30 nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Termoli. Il vescovo De Luca ha rinnovato a tutti l'invito alla preghiera per padre Luigi. Stiamo a Termoli per parlare d'altro cioè della realizzazione ormai certa e prossima della Gigafactory di Stellantis nell'attuale fabbrica ex Fiat che produce cambi invece si produrranno batterie per auto elettriche. L'onorevole Antonio Federico l'ha definita una scelta in linea con la transizione ecologica e Carlos Tavares che è il CEO di Stellantis ha detto Termoli ha un futuro certo e luminoso. Sentiamo Pierluigi Boragine. Siamo grati a tutte le persone coinvolte in questo investimento che assicurerà il futuro della grande comunità di Termoli. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, si rivolge direttamente alla popolazione molisana e nello specifico termolese dopo il via libera alla realizzazione della Gigafactory di batterie per le auto elettriche a Termoli, progetto sancito dalla firma dell'accordo con Mercedes-Benz che diventa nuovo azionista paritario di Automotive, Cell Company con Stellantis e Total Energy Safety per progettare lo stabilimento di batterie. Era l'ultimo tassello che mancava dopo la firma del 21 marzo scorso di un memorandum d'intesa. Trasformare l'impianto esistente per contribuire nella creazione di un futuro più sostenibile ha continuato Tavares posiziona ECC come leader europeo nella produzione di batterie e riafferma grazie alla collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico il ruolo dell'Italia nel sostenere la trasformazione di Stellantis in un'azienda di tecnologie dedicate alla mobilità sostenibile. Notizia che arriva nel cinquantesimo anniversario dello stabilimento basso molisano. Soddisfazione unanime è stata espressa da tutti i sindacati. Notizia importante perché dà continuità lavorativa e certezza per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo avviene nel cinquantesimo compleanno dello stabilimento termolese a prova e dimostrazione del grande contributo che hanno dato tutti i lavoratori dello stabilimento. Le prossime settimane saranno importanti per capire e conoscere i dettagli di questa Gigafactory. Noi lavoreremo affinché ci sia la continuità produttiva per tutti i lavoratori e che nessuno resti indietro. È una grandissima opportunità. Voglio sottolineare, noi come FIM Cisne continuiamo a sottolineare che non rimane un'opportunità solo per il territorio umano molisano. Bisogna dare massima risonanza a questa informazione perché questa è un'opportunità per il lancio dell'automotive, per l'intera filiera produttiva dell'Italia intera. Ricordiamoci che il PIL della nostra nazione gira quasi tutto intorno al settore automotive. Quindi valutate quanto sia importante questa notizia. È una notizia ovviamente importantissima per noi lavoratori di questo territorio in quanto lo stabilimento verrà riqualificato con queste nuove tecnologie, con la transizione ecologica che tutti sappiamo andremo incontro e quindi lo stabilimento si avvia verso il futuro e i lavoratori dovranno necessariamente avere una formazione, una riqualificazione verso le nuove tecnologie. Per la FIOM CGL infine è ora necessario aprire un confronto per entrare nel merito del percorso che deve tutelare le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento e far diventare l'investimento un'opportunità di crescita per il territorio. L'accordo è stato siglato nel tardo pomeriggio di ieri, come si diceva col Ministero dello Sviluppo con Invitalia e con la Regione. A darne notizia è stato proprio il governatore del Molise Donato Toma, entusiasta. Ascoltiamo. Gigafattori a termo, lì ci siamo. È stato firmato nelle scorse ore il protocollo d'intesa tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Molise, Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo, cioè Invitalia, con Automotive Sales Company, ACC, cioè la società creata da PSA Peugeot, poi confluita in Stellantis insieme a Total per produrre batterie e che tra i propri partner conta anche Mercedes. L'accordo è finalizzato a sostenere l'attuazione degli investimenti proposti proprio da Stellantis, cioè la trasformazione della fabbrica di termoli in stabilimento che crea e produce batterie per auto elettriche. Una svolta importante che arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di Carlos Tavares, il CEO di Stellantis, il quale aveva detto che stava per arrivare la stretta finale col governo italiano per iniziare finalmente il progetto da 2 miliardi e mezzo di euro. Il piano di sviluppo prevede in particolare la creazione di tre moduli di produzione e due progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentali concernenti specifiche tematiche legate alle future evoluzioni delle batterie e delle tecnologie produttive. Per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi è stato istituito un comitato tecnico composto da 5 membri, due in rappresentanza del Ministero, uno ciascuno per Regione Molise, Agenzia e ACC. Ce l'abbiamo fatta, le parole del Presidente della Regione Donato Toma. Sono molto soddisfatto per l'esito positivo di un percorso che ha visto le parti in campo confrontarsi e trovare una sintesi funzionale a dare allo stabilimento termolese all'indotto a esso collegato prospettive di rilancio e di crescita. Una notizia che attendevamo da tempo a conclusione di un percorso che abbiamo seguito sin dall'inizio. Queste sono le parole del Sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Adesso siamo arrivati a una fase cruciale in cui l'incertezza è stata sostituita dalle dichiarazioni ufficiali del zio Stellantis. Come amministrazione comunale di Termoli, prosegue Roberti, continueremo a vigilare e a seguire da vicino quello che accadrà nel prossimo futuro. Adesso si ha la certezza che lo stabilimento Stellantis di Termoli continuerà la sua produzione. E nel merito di questa importantissima notizia si è espressa anche la parlamentare molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhio Nero. L'annuncio di Stellantis ha detto rappresenta l'inizio di un percorso fondamentale per il comparto produttivo italiano verso la mobilità sostenibile, l'adeguamento che porterà la produzione in piena linea con le richieste dell'Unione Europea e permetterà al nostro Paese di diventare leader nel settore. L'investimento avrà ricadute notevolmente positive anche sull'indotto lavorativo del territorio del Molise, grazie all'impegno di Stellantis nei confronti delle questioni occupazionali. Ringrazio il Governo per gli sforzi propusi per il raggiungimento di questo fondamentale accordo. E chiudiamo la pagina relativa alla Gigafactory di Termoli per tornare a parlare del caro carburante perché nonostante il calo dei prezzi dovuto allo stop alle accise almeno fino a fine aprile la rabbia dei cittadini non è affatto diminuita. Sentiamo Nicola De Santis. E' una presa in giro che 25 centesco. Ma dove stiamo? Ma che facciano qualche cosa veramente perché qua non si può camminare tu quello male. Vabbè ho detto tutto, è una presa in giro e basta. E' troppo, è troppo. Bisogna andare incontro alle persone che hanno bisogno. Come si fa a fine aprile? C'è un ringaro prezzo esagerato. Ha subito molto danno perché questo periodo è stato... Lui viaggia per Campobasso e ha avuto una batosta con l'aumento. Adesso io non ho visto ancora la differenza. Sarà in... Non so, inizia oggi questa diminuzione e vedremo. Si fregano i soldi dei governi, della politica, lo Stato, non abbassa le tasse. Più di questo. E perché? Perché non ti bastano mai i soldi che prendono. Eh no, solo ieri le persone, i clienti hanno visto che diminuiva di molto e si sono un po' avventati. C'è stata un po' di folla ma niente di eccezionale. Ora si sta tranquillizzando la cosa e niente. Durerà 30 giorni, quindi a scadenza e poi si vedrà. Ma io penso che è ancora presto per poter capire come evolverà la situazione. Un fatto è certo che gli aumenti degli ultimi giorni non hanno giustificazione. Se il petrolio non è arrivato a 130 dollari il barile, oggi costa 99-95 dollari al barile, non si capisce per quale motivo il prezzo dei carburanti non torni come era precedentemente. Diversa è la situazione per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas. Lì ci sono fattori internazionali che ovviamente condizionano in questo periodo questo prezzo che ovviamente incide molto ma molto negativamente non solo sulle attività commerciali ma su tutta l'imprenditoria italiana. Ne penso, ne penso che è una cosa buona. Non potevamo andare più avanti con questi aumenti che ci sono stati. Amore di Dio, dove vai? Con un mezzo, un bulma ci fa 2-3 chilometri con un litro. Si fanno i viaggi calcolati a 1,1,20, 1,50, viaggi turistici. Con un altro ponte pagava neanche la nafta, quindi ribassata è una cosa buona, buonissima. Però si diceva prima che quando abbassa fa così. Prima abbassa e poi la spinge sopra, rialza. Speriamo di no. Ho comprato 4.000 litri di gasolio perché teniamo la cisterna e adesso si è ribassato a 30 centesimi ho avuto una perdenza di 1.200 euro. Solo una cosa che mi basta 30 giorni, neanche 25-26 giorni per la mia azienda di pulma. Parliamo ora di sanità. Nell'arco di 10 anni si è perso il 26% del personale sanitario negli ospedali del Molise. A dirlo è la federazione degli infermieri che ha redatto uno studio degli ultimi 10 anni, dell'andamento degli ultimi 10 anni in Molise. Un quadro nero considerando anche che il Molise insieme alla Calabria è l'unica regione che non ha garantito i livelli essenziali di assistenza e che occorrerebbero almeno altri 500 infermieri per mantenere gli standard del PNRR. Sentiamo. Il quadro della sanità molisana è preoccupante. Adesso a renderlo plasticamente vero sono anche i dati resi noti dalla Federazione Nazionale degli Ordini e delle Professioni Infermieristiche. In Molise, regione in piano di rientro dal 2007 e come noto commissariata, dal 2009 al 2019 si è perso il 26% del personale sanitario con le punte estreme proprio nel settore dell'assistenza tra infermieri e medici. Per di più, così come la Calabria, il Molise non ha rispettato i livelli essenziali di assistenza ed è indietro nei programmi di screening organizzati, Cervice Euterina, Mammella e Colonretto, tanto da essere tra le regioni con uno scostamento dai valori considerati normali di persone che hanno effettuato gli esami giudicato non accettabile. Non va meglio sempre secondo la federazione dal punto di vista retributivo. Il blocco dei contratti per razionalizzare la spesa ha fatto aumentare in dieci anni le retribuzioni solo grazie a vari automatismi, ma il potere d'acquisto non ce l'ha fatta a tenere gli stipendi del 2019 ai livelli di quelli del 2009. In Molise, quindi, gli infermieri hanno guadagnato sulla carta circa 2.851 euro l'ordi in questo periodo, ma considerando il potere d'acquisto, vanno in negativo a meno 906 euro nel 2019 rispetto al 2009. Inoltre, sempre secondo l'associazione presieduta da Maria Cristina Magno Cavallo, servirebbero almeno 500 infermieri in più che diventano oltre 800, di cui almeno 120-150 di famiglia e comunità, considerando le nuove strutture previste dal PNRR. Questa è la fotografia, mentre sta per fare tappa a Campobasso il congresso itinerante della Federazione Nazionale degli Ordini e delle Professioni Infermieristiche. Venerdì 25 marzo, alle ore 15, al convitto Mario Pagano, si terrà l'incontro dal titolo Ovunque per il bene di tutti. Sarà l'occasione per fare il punto sulle necessità reali dell'assistenza e anche per premiare le buone pratiche infermieristiche del modello UDI, attivato a Larino e Benafro, utile a gestire i ricoverati con un nuovo modello organizzativo. Si indica quanto prima un referendum per conoscere la volontà dei cittadini sull'istituzione del Molisagno. Queste sono le parole dell'ex senatore Alfredo D'Ambrosio, presidente onorario di noi di centro, da sempre amico di Clemente Mastella, il sindaco di Benevento recentemente ha riportato in auge questo progetto e domenica incontrerà il governatore Toma. Intanto sentiamo i dettagli. Io credo che questa opportunità non si può perdere perché è un'opportunità vera e propria perché si possa evidentemente parlare di una regione che, come dice l'amico Clemente Mastella, conterrebbe sui 600-650 mila abitanti. Beh, incominciate ad essere già qualcosa di diverso. È vivace il dibattito in regione sulla costituzione del Molisagno. Vecchia proposta che sembrava essere stata dimenticata e che invece è tornata in auge negli ultimi giorni. Alfredo D'Ambrosio, già senatore della Repubblica, Beneventano di nascita, Maesernino d'adozione, plaude alla proposta di Mastella e suggerisce un referendum per valutare la reale intenzione dei cittadini. Il problema che dovremmo, secondo me, tutti prendere in considerazione e discutere è il fatto dei vantaggi che ci sono da questa aggregazione. Io non credo che c'è ancora qualcuno in giro che possa rivendicare con forza, così come è stata fatta giustamente fino ad oggi, l'autonomia della regione. Noi non andiamo da nessuna parte. È una piccolissima regione, non contiamo a livello nazionale perché abbiamo una compagine parlamentare molto debile dal punto di vista numerico, per cui nessuno ci ascolta. Però dobbiamo comunque metterci tutti la buona volontà di lavorare tutti, magari a seguito di un referendum, per assaggiare anche e sapere qual è l'idea dei molisani complessivamente. Dopodiché bisogna andare avanti. C'è dunque la volontà politica da parte del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, di celebrare il matrimonio col Molise. In tal modo la nostra regione raddoppierebbe la sua popolazione, mentre la provincia di Benevento sarebbe non più l'ultima provincia della Campania, ma la prima in Molise ex equo con Campobasso. I vantaggi sono molteplici, ne cito alcuni. Quello della sanità, a proposito di questo decreto Balduzzi che ci ha penalizzato fortemente, l'altro vantaggio è che ci sarà una compagine parlamentare più forte e quindi crede che si può contare qualcosa in più a Roma. Ci sono vantaggi di tutte quelle strutture che avevano così il marchio della regione Molise che sono state trasferite non da un capoluogo all'altro, ma da una regione all'altra. Ma quale potrebbe essere il capoluogo della nascitura regione? Nulla osta per Campobasso dice D'Ambrosio, anche se Benevento con il suo Interland vale l'intero Molise almeno numericamente. Il capoluogo di regione io credo che Clemente ha fatto bene a dire l'amico Mastella che può essere tranquillamente Campobasso. commozione e partecipazione questa mattina durante le esequie dell'avvocato Vittorio Rizzi. Funerali si sono svolti nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù in piazza San Francesco nel capoluogo. In tanti hanno voluto dare l'addio all'ex sindaco di Campobasso, ex assessore regionale, avvocato molto apprezzato, conosciuto da tutti. È stato ricordato per i suoi modi gentili, Vittorio Rizzi per la sua eleganza e per come ha amministrato la cosa pubblica. Molto attivo nella professione forense, è sempre stato un punto di riferimento per gli avvocati più giovani. Legale esperto, è stato come detto assessore regionale all'urbanistica, sindaco di Campobasso dal 1990 al 1992 con la democrazia cristiana. Alla famiglia ancora le condoglianze della nostra redazione. La cronaca adesso ai carabinieri di Isernia. A seguito delle segnalazioni di numerosi automobilisti sono intervenuti sulla statale 17 per un'auto che stava viaggiando contromano in direzione Campobasso. Non senza fatica, i carabinieri sono riusciti a raggiungere la vettura, a fermare il conducente. L'uomo era stato colto da malore e non riusciva più a controllare l'auto che sembrava impazzita. Immediatamente sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno trasportato al Veneziale l'automobilista. Senza l'intervento dei carabinieri probabilmente l'episodio sarebbe finito in tragedia. Quindi un lieto fine fortunatamente. E ora parliamo del super bonus del 110% perché il Movimento 5 Stelle incontrerà cittadini, tecnici e amministratori locali. Il 25, quindi dopodomani, 25 marzo a Campobasso, ospite d'eccezione l'ideatore di questo strumento, l'ex ministro Fraccaro. Le opportunità e le prospettive del super bonus 110% per lo sviluppo del Molise in ottica di transizione ecologica. È il tema al centro del dibattito organizzato per venerdì prossimo alle ore 16.30 della Sala della Costituzione della provincia di Campobasso. In un momento come quello attuale che vede una forte oscillazione dei prezzi legati all'energia è quanto mai necessario puntare sulla transizione ecologica. Abbiamo in questi anni di governo fortemente puntato sulla misura del super bonus 110% ed oggi stiamo iniziando a vedere alcuni cantieri attivi e alcuni cittadini che stanno finalmente iniziando ad effettuare i lavori. La misura attualmente sta vivendo una fase di incertezza, va rifinanziata e promossa per il futuro. Il Movimento 5 Stelle incontrerà i rappresentanti delle istituzioni, degli organi professionali e delle amministrazioni locali per fare il punto sulla misura che, dati alla mano, sta spingendo la ripresa economica del Paese. All'evento, moderato dal vicepresidente del Consiglio regionale del Molise Angelo Primiani, sarà presente anche il deputato Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri e ispiratore del super bonus 110%. Sarà un momento di confronto con gli amministratori locali, con i professionisti del settore, ma anche con i cittadini, per parlare un po' più nel dettaglio degli effetti benefici che ha portato questa misura sul patrimonio edilizio italiano, ma anche per discutere delle prospettive di sviluppo future che questa misura può avere. È un'occasione sicuramente utile per entrare un po' più nel dettaglio delle questioni e per parlare con i tecnici e con i professionisti che stanno operando direttamente ed in prima linea per l'attuazione di questa misura. Università del Molise e Banca d'Italia insieme per contribuire allo sviluppo della formazione quale educazione economica e finanziaria della ricerca scientifica. Questi sono i punti cardine della convenzione che è stata firmata dal rettore Luca Brunese e per delega del governatore della Banca d'Italia da Magda Bianco, che è il capo del Dipartimento della tutela della clientela e dell'educazione finanziaria. Una collaborazione consolidata nel tempo, si legge in una nota dell'Unimol, quella che vede l'Ateneo e la Banca d'Italia insieme, in particolare con la filiale di Campobasso, e ci si confronta e si dialoga in quei contesti scientifico-didattici caratterizzanti la cultura economica e finanziaria. Rendere poi disponibili, come prevede la convenzione, le proprie risorse strutturali, didattiche e di ricerca di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi, quali ulteriori ed essenziali elementi di raccordo e di reciproca cooperazione, non fa altro che aggiungere un ennesimo tassello alle numerose e future prospettive progettuali e di iniziative comuni. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo di giovedì 24 marzo. Il rinforzo dell'anticiclone determinerà una bella giornata con cielo sereno su tutta la regione, temperature massime in lieve aumento, venti deboli, mare poco mosso. Eccole le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 5, massima 17 gradi. Isernia 4,18, Termoli 6,19, Benafro 6,19. Ci separiamo, ma solo per qualche istante, tra poco lo sport. Ed eccoci ritrovati insieme per la pagina sportiva, che apriamo con il calcio di Lega Pro. I tifosi del Campobasso sono pronti ad invadere Foggia domenica prossima e mister Cudini si ritroverà contro il suo maestro Zeman. Difficile dire quanti tifosi del Campobasso domenica saranno sulle tribune dello Zaccheria. Di certo, al momento c'è la grande voglia di invadere Foggia e di sostenere il Rosso-Blu in una di quelle sfide che riporta alla mente i momenti d'oro del calcio molisano e nello specifico Campobassano. Tre pullman sono già stati completati, altri potrebbero riempirsi in poche ore. Molto dipenderà da quanti biglietti saranno messi a disposizione dei tifosi Rosso-Blu. Passando alle cose di campo, Pace torna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica, ma non sarà facile scalzare Vanzan, che contro il Latina è stato tra i migliori in campo, molto propositivo sul binario di sinistra. Uno tra Rossetti e Mausso siederà in panchina, più probabile il secondo, conferma in vista per Bolsius. Ci saranno tutti Cudini all'imbarazzo della scelta e così potrà affrontare il maestro Zeman, il 4-3-3 o comunque moduli a parte il calcio che predica a chiarissime inflessioni zemaniane, con la possibilità di cambiare in corsa e di centrare un colpo che avrebbe il sapore dei play-off. Ed ora la serie di Il Vasto Girardi, atteso da due partite salvezza. Sabato in casa arriverà il Pineto, a mercoledì invece trasferta a Montegiorgio e contro gli abruzzesi non ci sarà guida. Due partite per mettere al sicuro la salvezza e dedicarsi a qualcosa di più importante. Il Vasto Girardi dell'arresto non ha mai nascosto le sue ambizioni e vuole provarci fino alla fine, dopo ovviamente aver centrato l'obiettivo più importante, la permanenza in categoria senza eccessivi patemi d'animo. Due partite, la prima sabato in casa contro il Pineto, poi mercoledì la difficile trasferta sul terreno di gioco del Monte Giorgio. Una partita alla volta, direbbe mister Fabio Prosperi, che conosce bene le insidie del campionato e sa che la strada da fare è ancora lunga, soprattutto dopo la sconfitta di domenica con il Tolentino. Nelle scorse ore, in occasione della ripresa degli allenamenti, nel quartier generale di Fornelli, il mister si è confrontato con i suoi. C'era anche il DG Antonio Crudele. Cosa non ha funzionato? Sicuramente l'approccio alla partita, dice l'esperto dirigente, ma non bisogna farne un dramma, può capitare, anche perché la squadra non giocava da diverso tempo. Nel Mirino, il Pineto, atteso sabato al Ditella, gara che Ruggeri e Soci vogliono vincere, cercando di sfruttare al meglio il fattore campo. Prosperi però dovrà rinunciare al suo pezzo più pregiato. L'attaccante guida è stato squalificato dal giudice sportivo e non sarà della gara. Sono giorni di intenso lavoro, questi per l'Isernia, che è impegnata su due fronti, quello del campionato naturalmente, anche quello della Coppa Italia, perché sappiamo che la squadra di De Bellis ha raggiunto i quarti di finale, dovrà vedersela con la polisportiva ossese, la polisportiva di Ossi, centro in provincia di Sassari. Allora, intanto, sabato, i Pentri riceveranno a Lancellotta la visita del Campobasso 1919 e sulla carta si tratta di una partita abbordabile, ma non la pensa così mister De Bellis, che ha dichiarato che le partite che ci aspettano sono tutte delle finali. Naturalmente la testa è anche all'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, che è in programma mercoledì, proprio contro la polisportiva ossese. Il trainer per l'occasione non potrà contare sulle prestazioni degli squalificati Vallefuoco di Lullo e Panico. Il 6 aprile ci sarà il match di ritorno al Lancellotta, mercoledì prossimo in Sardegna. Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale, che come sempre vi ricordo, potete rivedere online sul nostro sito teleregionemolise.it Grazie di essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri programmi.